Le manifestazioni tra cui Miss Ragazza e BBC 2012 organizzata dal Sosio Rosati e presentato da Silvano Ciosio. Tra le varie manifestazioni che abbiamo qui a Padre è anche questo bellissimo concorso di bellezza che coinvolge non soltanto le ragazze ma anche i bambini più piccolini. L'invito è quello di venire a Padre anche nei prossimi appuntamenti, anche nel mese di settembre con il quale dei Lazio per Padre. Quindi l'invito è fermare qui da noi e vi accoglieremo a braccio per me. Grazie a tutti. 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 Ok, andiamo ad attribuire la frase di ragazza Scitto Portamento Intanto a pregnarvi viene Marfalta, Fabrizio e Giuliano Faninelli Allora, eccoli qua, intanto andiamo, dicevo, ad assegnare ragazza Scitto Portamento Se raggiudicano Milka, Ferriz e Mania Figuardo Eccoli qua, vai Puglie Ok, questa è una fascia di tenuto a fedeltà Grazie a tutti